Tre cose che distruggono la salute dell'intestino. La prima è mangiare un sacco di cibi confezionati. Di solito hanno molti additivi come l'MSG o dolcificanti artificiali che non sono sani per il microbiota intestinale. Secondo è troppo stress. La connessione intestino-cervello è forte. Questo studio ha dimostrato che uno stress elevato ha causato una riduzione dei batteri buoni. La terza è la mancanza di probiotici nella dieta, come gli asparagi, la verna o le banane. Questi cibi promuovono una crescita di attività di batteri intestinali buoni. Seguici per più info.